La Biblioteca La Magna Capitana di Foggia ha un nuovo orario di apertura al pubblico, anticipata di mezz'ora l'apertura, che da lunedì 7 gennaio scorso è fissata alle 8.30. Resta invariato invece per l'utenza l'orario continuato fino alle ore 19.15. Il nuovo orario, spiega la direttrice del Polo Bibliomuseale di Foggia, Gabriella Berardi, punta a migliorare il servizio al pubblico e ad armonizzare l'orario di apertura della biblioteca a quello delle strutture dei Poli Bibliomuseali della Regione Puglia. Proseguono intanto i lavori di efficientamento energetico e rifunzionalizzazione degli spazi e degli impianti della biblioteca per un sistema di condizionamento e di illuminazione a minore impatto ambientale con la riduzione dei consumi. Già completati i lavori all'ingresso con lo spazio reference e la sala dei fondi speciali. A piano terra è possibile trovare anche scaffali con alcuni testi della sala narrativa e dell'area divulgativa attualmente interessata dai lavori. Lavori in corso anche in sala consultazione, emeroteca, immagini e suoni e presso il doc, la sezione specializzata nella didattica. Disponibile al primo piano un'ampia sala studio, è possibile rivolgersi sempre al primo piano per fare richiesta dei documenti collocati in deposito.